Signore e signori, non possiamo dimenticare che, mentre siamo qui riuniti, due guerre sono in atto nel continente europeo e alle sue porte. Abbiamo il dovere di non arrenderci alla guerra, di non disperdere il patrimonio accumulato, di non rinunciare alla tutela dei diritti umani, anzitutto di quello alla vita e all'affermazione dello Stato di diritto. Di fronte a una violenza che non si arresta, trovare una via d'uscita appare a tratti impresa quasi disperata. Ma questa ricerca non deve essere abbandonata e può essere coronata da successo se sapremo dar valore alla collaborazione e al dialogo nell'ambito delle istituzioni multilaterali. La loro voce appare talvolta affievolita, ma non lo sono le ragioni che esprimono. Le sole a poter garantire una sicurezza duratura, accompagnata da garanzie di rispetto e in pace dei diritti di libertà. Tra pochi giorni ricorrerà il 75esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata grazie a un esercizio di composizione delle divergenze, in nome di principi più alti, quelli del riconoscimento e della tutela della dignità umana, della universalità e della interdipendenza dei diritti umani. La constatazione di quanto ampia sia in varie parti del mondo la distanza tra riconoscimento formale dei diritti e loro concreto godimento rende ancor più significativo e meritorio il vostro lavoro, in seno al Comitato di monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. E quindi con convinzione che vi rinnovo i migliori auguri, buon lavoro e l'apprezzamento della Repubblica italiana.